Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Rocky e l'ispettore sono intrappolati nel fortino e l'autista del mezzo guida in modo spericolato! Quindi, per questa missione mi servirà... Chase! Chi pensa Chase? E Rubble! Rubble come un razzo! Bene! Al lavoro, Po-Patrol! Fammi uscire di qui! Non posso, dobbiamo risolvere gli enigmi per far aprire le porte! Ma se l'hai costruito tu, non conosci tutte le risposte? No, io ho solo montato gli schermi e il computer a scegliere gli enigmi! In questo caso, aiuta! Oh no! Signore, stia attento, c'è un bus in arrivo! Cerco di fermare il rimorchio! Io penso al bus! Pilota automatico! Pronti? Partenza? Via! Forza voi due, la gita è finita! Bel lavoro, Zuma! Spero che Rubble raggiunga quel rimorchio! preso! Preso! Oh no! Argano! Il rimorchio è al sicuro! Alex, vuoi avere tu l'onore? Il fortino di cartone di Adventure Bay è ufficialmente aperto! Che bello! Grazie per aver salvato il fortino! Non c'è di che! Ogni volta che un fortino è in fuga, noi siamo a disposizione! Ecco l'antichissima e misteriosa statua d'oro di lupo! E queste cose sono, François? Ah! Quelli sono i guardiani di lupo! I guardiani devono eseguire gli ordini di chiunque tenga in mano la statua d'oro di lupo! Affascinante! È stupendamente scintillante! Ma non è un gioiello! È un frammento del meteorite che mi aveva dato... Sì! Super poteri! Aiuto! Quelle statue si muovono! Fermi! Sbaglio! O mi avete ubbidito? Ora portatemi quella cassa piena d'oro! Li sto controllando! Adesso una banda di cani scintillanti è al mio servizio! Allora, super cuccioli! Attireremo Ladyboard fuori dal museo con la statua più grande e brillante che si sia mai vista! E noi ci riprenderemo la statua d'oro di lupo! Però noi non abbiamo un'enorme statua che brilla! Ce l'avremo! E la vedrete quando voleremo sul deserto con il super jet! Vi spiego il resto del piano! Ma è possibile? Che sia così difficile trovare una statua gigante piena di gioielli! È ilurne! Guardate come brilla! Portate questa statua nel mio covo museo! Presa Ladybird! Che cosa? Tu non sei una statua! No! Io sono un super cucciolo! E la statua d'oro di lupo non ti appartiene! Merci beaucoup, Popatrol! Siete riusciti a salvare la mia preziosa collezione! Non c'è di che! Ogni volta che le statue prendono vita, noi siamo a disposizione! Vogliamo che la spiaggia sia bella, pulita e sicura per le tartarughe marine! Arriveranno oggi a deporre le uova! E... Oh no! Rifiuti in mare! Non vorrei che le tartarughe ci sbattessero contro! Devo fare qualcosa! Uh! Rimorchiatore! Torna subito qui! Ehi! Quella è la mia targhetta! Mi servirà un altro piano! Ho costruito il miglior razzo sparacuccioli del mondo! Evviva il riciclo! Ho trovato anche le mentine! Non sono più buone da mangiare, ma ottime come propellente! Adventure Bay! Sto arrivando! Semaforo verde! Rocky? Come sei arrivato qui? Gattini, lanciate quella robaccia! Io non penso proprio! Credo che questa sia mia! Ci sono, Ryder! Ho ripreso il rimorchiatore! State pronti! Le tartarughe si dirigono verso la spiaggia! Ottima notizia e ottimo lavoro, Rocky! Sono arrivate le tartarughe! Hip, hip! Urrà! Po-patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Il sindaco Hamdinger ha portato qui uno speciale camion dei rifiuti, lo Spazzadinger! Un gabbiano ci ha volato dentro e per sbaglio ha attivato la funzione contraria! Adesso il camion sparge rifiuti in tutta la città! Per questa missione mi servirà Sky! Questo cucciolo ha imparato a volare! E Rocky? Semaforo verde, signore! Bene! Al lavoro! Po-patrol! È incredibile! Quel camion ha sporcato anche qui! Ce ne occuperemo noi! Con questo... Ma che bel camion, Ryder! Dà un'occhiata qui! Wow! Questo sì che è un ottimo riuso! Quello che Buddi dà i suoi frutti! Ryder! Ho trovato lo Spazzadinger! Dove si trova? Appena fuori città sta andando verso un ponte! E si sta alzando! È completamente sollevato! Come raggiungiamo il camion? Tutti quei cubi di spazzatura ci bloccano la strada! Camion, mi serve il tuo aiuto! Mi piace quello che stai facendo, Rocky! E qui abbiamo fatto! Devo solo riuscire a raggiungerlo! Preso! Ottimo lavoro, Rocky! Oh, grazie per aver salvato la città, Poopatrol! Non c'è di che! Quando in giro c'è troppa spazzatura, noi siamo a disposizione! Sì, Patrol! Siamo pronti all'azione, Capitano Ryder! Dobbiamo allontanare i pesci da un vulcano sottomarino che sta per eruttare vicino all'isola Cresta di Lava! Oh, no! La signorina Marjorie e Maynard stanno andando laggiù proprio ora a trovare un vecchio amico, Arrigan Aucai! Allora il soccorso diventa ancora più urgente! Mi servirà... Marshall, userai il tuo motoscafo per cercare la signorina Marjorie e Arrigan e avvisarli del pericolo! Sì, non aspettavo altro! Ci siamo! Al lavoro! Sì, Patrol! Allora, cucciolo! Salve! Maynard, ma sei tu? Ciao, Arrigan! Marjorie! Maynard! No, caro, fermo! Marjorie! Ci vediamo dall'altra parte dell'isola! Ryder, abbiamo un proccione in fuga! Allora! Siete amici di Marjorie e Marshall? Serve Cocua! Presto! Oh, no! Il vulcano dell'isola sta eruttando! Marshall, dammi una mano con questa palma! Cosa stanno facendo? Sì, vogliono fare surf! Reggiti forte, Marshall! Adesso facciamo un bel salto! Sì! Sì! Allora! Allora! Uh-huh! 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 Sì! 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 Grazie per essere venuti in nostro soccorso! Halo per l'aiuto! Ricordatevi sempre, ogni volta che un incontro viene rovinato da un vulcano che erutta, noi siamo a disposizione! Benvenuti alla competizione di Birdwatch e di Adventure Bay! Sviattagliolerò di soppiatto sotto quei superbi esemplari e scatterò una foto! Pronti in partenza, via! Una viandaglia a ventre blu! Un nido! Una foto dei figlioletti farebbe un bel figurone! Ah-ha! Io ho appena avuto una grande idea per vincere questa gara! Oh! Meglio chiamare la Poppa Troll! Sono appeso quassù, Poppa Troll! La faremo tornare alla sua gara di birdwatching in un lampo! Oh! Scala! Forza, Capitano Turbot! Venga giù! Non riesco a raggiungere la scala! L'aiuto io! Oh! Sto bene! E sta bene anche mamma uccellina! Il nido! Ce ne occupiamo noi, Capitano! Ora venga giù! Rocky, trova qualcosa che funga da nido per questi pulcini! Riciclare è meglio che buttare! È tutto a posto, piccolini! Ho un nido nuovo di zecca che vi aspetta! Ben fatto, Rocky! Ora spostiamo il nido in un luogo più sicuro! Eccone uno! Raggi, tirati! Ecco fatto, piccolini! Spero che vi piaccia! Nel linguaggio della ghiandaia ventre blu vuol dire grazie! Ehi, cos'è quello, signor Wingnut? Il volavento 3000! Un frisbee automatico alimentato da una potente batteria che torna da solo dopo essere stato lanciato! Ora non dovrebbe tornare indietro! Fermate quel volavento! Che cosa è stato? Meglio chiamare la Puppa Troll Grazie al cielo, sei qui, Ryder! La tireremo giù, signor Porter! Marshall? Scala! Grazie, Marshall! Il mio secchio è rimasto lassù, però! Nessun problema, ci penso io! Sto bene! Ecco il disco volante! Il volavento ha preso Cali! E che cosa facciamo? Ci aiuterà il miglior giocatore di frisbee di Adventure Bay! Chi è? Robo Cucciolo! Robo Cucciolo, afferra quel disco! Chase, la rete! Rete! Ce l'abbiamo fatta! Sono pronti i tuoi sottaceti frizzanti, nonno! Questa partita è davvero molto frizzante, eh? Caricchiamoli! Aspetta, ne manca ancora uno! Attento con quel barattolo! Se lo agiti troppo, il gas potrebbe farlo esplodere come una bottiglia di soda! Su questa strada si balla! Che cos'è questo rumore? Forse erano un po' troppo frizzanti! Aiuto! Signor Porter, sta bene? Io sto bene, ma temo che il furgone sia incastrato! Ci pensiamo noi! Chase, ci serve il tuo argano! Ci pensa Chase! Dov'è il furgone del signor Porter? È caduto al lato della strada ed è rimasto bloccato! Argano! Argano! Sono giù, Ryder! Sky, cala l'imbracatura per il signor Porter! Imbracatura! Si regga forte! Ryder, come rimorchiamo il furgone del signor Porter? Se solo ci fosse il modo di farlo saltare fino alla strada! Ottima idea! Ha bisogno dei sottaceti frizzanti! Rocky, sono rimasti dei barattoli chiusi! Sì, ne è rimasto uno! Agitalo e mettilo sotto il furgone! Barattolo in posizione, sto tornando su! Toc, toc! Chi è? Correte! Correte? Correte perché qui si mette male, sta per esplodere! Gente, state indietro! Benvenuti all'apparata di palloncini di Adventure Bay! Sì! Quello che cos'è? Che cos'è? Mi stanno guardando tutti! Finalmente! Non leggo la partecipazione del sindaco Hamdinger alla parata, ma per la regola del buon vicinato lo faremo partecipare lo stesso! Sindaco Hamdinger! Prenda posto in fondo alla fila! Aiuto! Rocky, il palloncino del sindaco Hamdinger è fuori controllo! Serve il tuo intervento! Semaforo verde, signore! Qualcuno aiuti Hamdinger, per favore! C'è un buco nel piede! Usa le tue pinze per chiuderlo! Appena il palloncino si stabilizza, il patroller lo bloccherà! Sono sempre stato bravo con le pinze! Pinze! Il buco è chiuso, Ryder! Ottimo lavoro! Ora puoi lasciarlo, Rocky! La parata è già finita, per caso? È appena cominciata! Tieni, ecco il tuo palloncino! Ti auguro una buona festa dei palloncini! È la parata dei palloncini più bella del mondo! Voi pensate solo alla vostra vacanza! Grazie, a presto! Sicuro che sia questa la strada, non si vede niente con questa nebbia! Il nostro albergo è di prima classe! Garby ha fatto la prenotazione online tutta da sola! Oh, ecco la spiaggia! Sapevo che era la strada giusta! Guarda, ci sono anche l'asdraio e l'ombrellone! Ma dov'è l'albergo? Deve essere quello laggiù! Non è poi così male questo posto! Oh, guarda un po'! Dò un'occhiata a questi bei cappelli! Saranno omaggi per gli ospiti! Gattini! Ecco qui il tonno! Che succede? Degli intrusi proprio dentro la mia base segreta? Non riusciranno a passarla liscia! In effetti, non passeranno mai più di qua! È il momento di chiudere la base! Cos'è questo rumore? Forse siamo vicini all'aeroporto! Ben vista, intrusi! Siete in trappola! Insieme ai miei gattini! Oh, i miei gattini! Salve, sindaco Handinger! Ciao, Ryder! Ho coraggiosamente intrappolato degli intrusi nella mia base con un macigno! Ma i miei gattini sono rimasti bloccati dentro con loro! Arriviamo subito! Salve, sindaco Handinger! È quello lì, il macigno! Sì, sbrigatevi! Se dovesse succedere qualcosa ai gattini, non so che cosa farei! Un macigno in partenza! Oh, grazie al cielo! Per caso, quei brutti intrusi vi hanno spaventati! Chi sono gli intrusi? Oh, ciao, Ryder! Anche voi avete una stanza qui? Wow, guarda che coincidenza! Oh, questo telecomando è davvero impossibile da decifrare! Non voglio che il mostro balli il Boogie Boogie! Voglio solo che cammini fino a Foggy Bottom! Oh, oh, oh! Eccoli che arrivano! Quel gigantosauro è gigantesco! Finirà per distruggere qualcosa! Oh, smettila di ballare! Meglio stare indietro, sindaco Godway! Sembra che il gigantosauro stia per lanciare un'altra palla di fuoco! Io ho sentito urlare! Che cosa c'è? Oh, la lucertola gigante! Oh, cielo! Cicaletto! Cotte alla perfezione! Sky, prova a rintracciare il gigantosauro! Oh, Alice! Ryder, ho trovato il gigantosauro! Dov'è? Vicino al quartier generale! Oh, patrol! Al quartier generale! Presto! Adesso salviamo Cicaletta! Parabrezza! Giù! Stai buona, Cicaletta! Presto, Marshall! Sta per far fuoco! Cicaletta! Salta su! Caspita! Punta verso di noi! Pronti, cuccioli! Sta per... Tobi, pronti! Acqua fuori! Ora! Più a sinistra! A sinistra! Così! Resta così! Resta così! Marshall! Marshall! Cuccioli! Cuccioli! Abbiamo fermato il robot! Sì! Sì! Che cosa è successo? Il reperto d'oro è scomparso! Cuccioli! Cuccioli! Separatevi e cercatelo! Raide! Carlos! Da questa parte! Ho trovato delle impronte! Non ho mai visto niente del genere! Wow! Sono delle zampe davvero enormi! Il reperto è scomparso e qui ci sono delle strane enormi impronte! Lo avrà preso a zampa grossa! Non sappiamo che creatura sia! Ma sappiamo che il reperto è antico e dovrebbe stare in un museo! E dobbiamo recuperarlo! Raider! Ho appena visto qualcosa che luccica muoversi tra gli alberi! Quel verso! È di Mandy! È nei pasticci! Oh no! Zampa grossa l'ha presa! Mandy! Ti salvo io! Il reperto! Così rotolerà nel fiume! Skye! Puoi prenderlo con il tuo gancio! Oh! Gancio! Miei cari amici! I segni che vedete su questo antico reperto d'oro Sembrano proprio le nostre impronte misteriose Quindi non è stato zampa grossa a lasciare queste tracce Ma è stato il reperto! Con l'aiuto delle scimmie! Grazie per aver recuperato il pilastro, Raider Non c'è problema! In ogni occasione noi siamo... A disposizione! È bello che tu sia tornato! Già! Cos'è la sorpresa? Rex? Ciao a tutti! Io sono Rex! Ciao Rex! Molto piacere! Benvenuto ad Adventure Bay! Sono i cuccioli più simpatici che abbia mai conosciuto! Veramente sono gli unici cuccioli che conosco! Non hai mai conosciuto altri cuccioli? No! Ero l'unico cucciolo nel mio paese! E quale sarebbe? Questa è l'altra parte della mia sorpresa! Prenderemo il pupo a trailer? No! Questo! Wow! Ma che spettacolo! Coraggio, cuccioli! Tutti a bordo! Wow! Ma che meraviglia! È bellissimo! Ma che cos'è? Dinosauri! Che forza! Che forza! Orginissimo! Vi do il benvenuto nella terra dei dinosauri! Quelli sono triceratopi! E quelli sono veloci raptor! Non sono eccezionali! Oh! Quelli sono pterodattili! Sembrano uccelli, ma... Sapevate che in realtà sono dei dinosauri volanti? No! Ma adesso lo sappiamo! Venite con me! Seguitemi! Oh! Questa è la mia casa! Oh! Wow! Che forza! Io abito qui con Taylor e la dottoressa Turbot, che è la veterinaria per dinosauri migliore del mondo! Oh! È davvero il posto più bello del mondo! Sì! Perché non ci facciamo un giro con il Dino Patroller? Ehi! Questo nome mi sembra perfetto! Tutti al Dino Patroller! Po-patrol! Siamo pronti all'azione, signore! L'ingresso della serra è bloccato! E ora il sindaco Goodway, Cicaletta e il sindaco Humminger sono intrappolati all'interno! Quindi per questa missione mi servirà... Rocky! Semaforo verde, signore! E Everest! Ghiaccio o neve, io sono pronta! Bene! Al lavoro! Po-patron! Coraggio, Everest! Per prima cosa libera l'ingresso! È ora di spazzare un po' di neve! Ottimo lavoro, Everest! E adesso possiamo riparare la maniglia! Ci penso io! Oh! Fa troppo caldo qui dentro! E se ha così caldo si tolga il cappotto? Accenderò l'aria condizionata! Non credo che sia una buona idea! Ma perché non ti decidi a diventare più freddo? Stia attento, si potrebbe... Rompere! Sì, siamo dentro! Ora facciamo uscire i sindaci! Accidenti! Che succede qui dentro? Po-patrol! Tutto bene? Fa così freddo qui! Sì, che cosa è successo qui? Il sindaco Humminger ha rotto il termoschermo! E se fa troppo freddo le piante potrebbero morire! Lo dobbiamo aggiustare! Nel frattempo, Cicaletta e io andiamo in mezzo alla neve per scaldarci un po'! Wow, il guasto è piuttosto grave! Riuscirai a ripararlo, Rocky? Nessun problema! Wow! Cacciavite! L'ho aggiustato! Sistema di climatizzazione attivo! Ben fatto, Rocky! Queste piante torneranno al calduccio in un baleno! Ed è così che dichiaro questa serra... Aperta! Grazie per aver salvato la serra, Po-patrol! Non c'è di che! Ogni volta che la serra si congela, noi siamo a disposizione! Super Cuccioli, siamo pronti alla superazione, signore! Grazie per la velocità, Cuccioli! Sembra che il sindaco Hamdinger sia riuscito a creare un esercito di cloni di se stesso! Mai visti tanti Hamdinger tutti insieme? I cloni hanno portato via il salone di bellezza con Katie e Callie all'interno! Super Chase! Dovrai usare la tua super velocità per raggiungere l'orda di Hamdinger e fermarla! E Super Rubble, tu userai la tua super forza per rimettere il salone a posto! A lavoro, Super Cuccioli! C'è una scia di pezzi del salone scomparso! Chase, segui quella scia e raggiungi il salone! Non perdermi di vista, se ci riesci! Hop, 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 hop! Fermi dove siete, sindaci Hamdinger, e mettete giù il salone di pezzi! Caspita, quanto è alto! Oh no! Ops, sarà meglio filarcela! Katie, state bene! Ci serviranno altri Super Cuccioli! Marshall, serve il tuo aiuto al burrone! Sono pronto per un soccorso rovesse! Sono qui, Ryder! Ottimo! Super Cuccioli, è il momento della Super Carica! Certo! Oh sì! Super Carica! Marshall, dobbiamo fare un super salto per tirare fuori Katie e Kali! Presto! Subito! Marshall! Vi tirerò fuori di qui! Reggiti forti! Grazie! Chase, usa la tua abbagliata sonica per sollevare il salone di Katie! Prendilo, Rubble! Grazie di tutto, Ryder! Non c'è di che! Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Robo Cucciolo, segui il segnale fino al Big Rock Canyon! È dove il signor Wingnut veniva inseguito dai lupi! Il temporale si dirige proprio verso il Big Rock Canyon! Ci sono molte rocce in quei canyon, quindi ci servirà Rubble! Rubble come un razzo! E Marshall, dato che sei in grado di parlare con gli animali, dovrai dire a quei lupi di stare lontani dal signor Wingnut! Sì, non aspettavo altro! Bene, al lavoro, Pou Patrol! Marshall, dirigiti nel canyon a sud-est! Lì troverai il signor Wingnut insieme ai lupi! Dirò a loro di allontanarsi in questo modo! Oh no, sembra un altro lupo! Ottimo lavoro, Marshall! Io vado a soccorrere il signor Wingnut! Ryder, abbiamo un problema! E ora abbiamo un altro problema, Ryder! Quel temporale che cercavamo di evitare è quasi arrivato! Dobbiamo liberare il signor Wingnut prima che i canyon si allaghi! Marshall, porta il tuo branco fino al Pou Patroller! Rubble, togli di mezzo quel masso! Robo Cucciolo, portaci via dal canyon! Boh! Che cosa ci fanno quei lupi qui? Niente paura, sono amici! Cavalieri del soccorso, siamo pronti all'azione! Dobbiamo salvare Sweetie dal drago Sparks... Aiuto! ...e poi riparare il percorso! Per questa missione avrò bisogno di... ...Sky! Questo Cucciolo Cavaliere ha imparato a volare! E Rocky! Siamo a Foro Verde, signore! Ah, bene! Al lavoro, Cavalieri del soccorso! Oh, grazie al cielo siete già qui, Cavalieri del soccorso! Skye, tu hai trovato qualcosa? Per adesso niente drago e niente Sweetie! Tu continua a cercare e avvisaci non appena li avrai trovati! Questo pallo si è bruciato! Nel camion ho quello che mi serve per ripararlo! Riciclare è meglio che buttare! Ben fatto, Sir Rocky e Sir Rubble! Skye, hai novità sul drago in fuga? Ho trovato Sparks! Ma è troppo agitato! Non riesco ad avvicinarmi per prendere Sweetie! Cerca di distrarlo, Skye! Può prestarmeli, per favore? Grazie! Sparks! Non sembrano due bei Marshmallow giganti? Vieni a prenderli! Ti ho presa! Oh, evviva! Grazie, Rider e Cavalieri del soccorso, per aver salvato il torneo! Non c'è di che, vostra altezza! Ogni volta che qualcuno combina dei guai, noi siamo a disposizione! Oh, patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! A quanto pare, il sindaco Hamdinger è rimasto intrappolato in un gigantesco coniglio di cioccolato! Chi l'avrebbe detto che il sindaco Hamdinger in realtà era così dolce? Qualcuno lo sta portando dentro al bosco e ora aspetta a noi salvarlo! Per questa missione avrò bisogno di... Chase la spia! Ci pensa Chase la super spia! E Skye! Questo cucciolo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro! Pou Patrall! Aiuto! Skye! Cala l'imbracatura! Ricevuto, Ryder! Oh oh! Skye! Sbrigati! Il sole scioglierà il cioccolato! Chase, vai sul fondo del crepaccio e prepara la tua rete! Subito! Che sta succedendo? Oh no! L'ho mancato per un pelo! Oh! Rete! Rete! Ryder, il coniglio è rimbalzato e la corrente lo sta portando via! Zuma, abbiamo bisogno del tuo overcraft! Doppiamoci dentro! Non ci resta che riportare il coniglio arriva! Ryder, abbiamo un problema! Oh sì! Quei delfini sono un po' troppo vicini! Zuma, devi portare a riva il coniglio! È in fretta! Salvagenti! Che cosa succede? Sindaco Handinger, si tenga forte! Beh, ve la siete presa comoda, ma grazie lo stesso! Non si preoccupi, Sindaco Handinger! Quando resta bloccato in un coniglio di cioccolato, noi siamo a disposizione! Wally, ma che cos'è questo congelamento corpareo? Cusino, perché non mi hai detto prima che volevi giocare alle belle statuine? So restare fermo più a lungo di te! Non si tratta di un gioco, François! Qualcuno qui mi ha congelato! Congelato, hai detto? Allora chiamola... ...o un patrol? Marshall, andiamo al porto a scongelare Capitano Turbot e Wally! Pronto per un soccorso caloroso! Skye, tu mettiti sulle tracce di Harold! Ricevuto, Ryder! Finalmente, i super cuscioli! È ora di alzare la temperatura! Un milione di grazie, Super Marshal! Non c'è di che! Ryder, attento al raggio congelante di Harold! Everest, devi combattere il ghiaccio con il ghiaccio! Diamoci dentro! Ehi, congelare la gente non è carino! Oh, già... Abbandonare la nipote del sindaco mobile! Oh, il frammento di meteorite! I miei superpoteri! Grazie, super cuscioli! Per aver scaldato la città e i nostri cuori! Nessun problema! In ogni occasione ghiacciata, noi siamo a disposizione! A me nemmeno piace il freddo! Comincia a essere buio! Meglio accendere il faro! Chissà cos'altro può fare! Questo sì che è estremo! Chissà se le riesco a illuminare con la luce del faro! Sì! Ora metto la luce alla massima potenza e sarà abbastanza chiaro per... Il numero acrobatico più entusiasmante di sempre! Adesso quella nave non riuscirà a vedere l'isola! Oh no! La porta è chiusa e ho lasciato le chiavi dentro! Devo chiamare la Paw Patrol! La porta non si vuole aprire! Chase, usa le scarpe a ventosa per arrampicarti ed entrare da quella finestra! Scarpe a ventosa! Potrei fare dei bei numeri con quelle scarpe! Zuma, come procede? È buio pesto qua giù! Non credo che il capitano riesca a vedermi o a sentirmi! Mantieni la distanza, Zuma! D'accordo, Ryder! Intanto continuo a chiamare il capitano! Sono dentro, Ryder! Ora vengo ad aprire! La lampadina è fulminata! Ne occorre una nuova! Lampadina nuova in arrivo! Dobbiamo fare in fretta! Oppure il mercantile si schianterà! Ryder! La nave ha tirato! Attento, cugino! Questa lente è lucida e senza una riga! Cerchiamo di non rovinarla! Ma certamente! Questa nuova lente di vetro farà splendere il tuo faro come non ha mai fatto prima! Ed è anche ottima per fare delle boccacce se ci guardi attraverso! Carichiamo la lente! E adesso andiamo sull'isola! Fitbit di cosa? Ah, non credo proprio! Sarà un lento e lungo viaggio! Così la mia lente sarà al sicuro! Caspita! Quei tronchi stanno prendendo fuoco! È meglio fermarsi! La leva del freno è bloccata! Non posso fermarmi! Mi serve aiuto! Bene! Dobbiamo spegnere quell'incendio! Prima però dobbiamo fermare il treno! Ben detto, Marshall! Rubble! Afferra il treno usando il gancio! Poi lo fermeremo con i nostri freni! Non avevo mai agganciato un treno prima d'ora! Che forte! Bene! Freni! E ora spegniamo i tronchi! Auto con cannone ad acqua! Grazie mille, Po-Patrol! Nessun problema! Non c'è di che! Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! In stile Chase! Oscar è scomparso dal ranch del signor Wingnut! Povero Oscar! E poi dobbiamo trovare uno strano veicolo che la signora Yumi ha visto scorrazzare in giro! Ecco perché sarà... una missione da poliziotti! Ci pensa Chase, il poliziotto! Bene! Al lavoro, Po-Patrol! Chase, quello è il veicolo di Rottami! Cabina su! Chiunque sia al volante non sente! Sky cerca di scoprire chi si trova alla guida di quell'affare! Ricevuto! In avvicinamento! Occhiali! Sembra che ci sia uno struzzo al volante di quei Rottami! Deve essere Oscar! I Wingnut saranno felici che abbiamo trovato Oscar! Ma dobbiamo ancora fermare il veicolo e recuperare Oscar prima che si schianti contro qualcosa! Hai ragione, Ryder! Sky, dov'è diretto Oscar? Si dirige verso la città! Se quel mostro di Rottami continua così finirà in mare con Oscar al suo interno! Zuma, usa il tuo skateboard per fermare Oscar! Skateboard! Fascia è chiudata! Fascia è chiudata! Bene! E' salvo! Grazie per aver salvato il nostro tesoruccio! Ogni volta che fugge uno struzzo, noi siamo a disposizione! Popatrol! Siamo pronti all'azione, signore! Grazie per essere qui, cuccioli! Il sindaco Goodway Cicaletta I Turbot E Danny? E Danny Hicks il temerario! Sono caduti tutti quanti dalla cima della montagna! Sky! Tu piloterai l'elicottero estremo e guiderai gli altri cuccioli in questa missione! Sì! Questo cucciolo estremo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro! Poufatrol! Rocky! Usa la pinza per liberare Danny dall'aliante! Robon! Tu ti occuperai di agganciare i Turbot al cavo! Juhu! Che bel paracadute! Pinza! E vai! Ciao, ragazzi! Prossima fermata all'elicottero estremo! Juhu! Questo è troppo estremo! Grazie! Oh, no! Aiuto! Il mio canotto si muove! Sky! Il canotto del sindaco Goodway sta scivolando! Marshall! Zuma! Dovete far salire il sindaco sulla piattaforma! Sto scivolando! Salva gente! L'ho presa! Ben fatto, cuccioli! Oh! Ma guarda che bei sorrisi! E che panorama meraviglioso! Grazie a Sky e ai nostri cuccioli! Per ogni scalata andata male, noi siamo sempre a disposizione! Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! In qualche modo la mongolfiera di Travis si è impigliata nella Flander e una folata di vento li ha portati nel deserto! E noi dobbiamo riportare la barca di Capitan Turbot in acqua? Sì, e anche far volare di nuovo la mongolfiera di Travis il viaggiatore! Per questa missione mi servirà... Rocky! Userai i tuoi attrezzi per costruire un carrello robusto per sostenere la Flander! Semaforo verde, signore! Bene! Al lavoro! Po-Patrol! Rocky, tu comincia a costruire il carrello! Subito! Ora dobbiamo trasformare la mongolfiera sgonfia in una vela! Rubble, Zuma, coraggio! Un carrello per barche pronto all'uso! E la Flander ha una vela nuova di zecca! Ottimo lavoro, cuccioli! Ma come farà la mia barca a salire su quel carrello? Rubble, accendi il motore e inizia a tirare! Evviva! Sì! E ora la Flander del deserto è pronta per il suo viaggio inaugurale! Travis, Capitan Turbot, reggetevi! Stiamo per salpare! Prossima tappa, Adventure Bay! Finalmente è tornato in acqua, Capitan Turbot! Grazie! Ah, quel percorso pericoloso ha portato dei problemi alla mia povera pagina! E io come faccio a riportare la mia magnifica mongolfiera di nuovo in aria? Non sarà un problema per le ventole di Zuma! Un altro po' d'aria e riusciremo a... decollare! Grazie per il salvataggio nel deserto, Po-Patrol! Non c'è di che! Ogni volta che un viaggio prende una brutta piega, noi siamo a disposizione! Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! La città è rimasta senza elettricità! Fortuna che al quartier generale abbiamo il generatore di emergenza! Aspetta a noi dargli una mano e ripristinare l'elettricità! Per questa missione avrà bisogno di... Chase! Chi pensa a Chase? Bene! Al lavoro, Po-Patrol! Guarda! Pensi che possa avere a che fare con il blackout? Sindaco Hamdinger, la prego, spenga l'insegna! Ha causato un blackout totale! Mai! È un'opera d'arte! E poi, come si fa a spegnere un faccino così simpatico? Scusi, sindaco Hamdinger, ma ad Adventure Bay serve l'elettricità! E c'è ancora qualcuno che ha bisogno di aiuto! Andiamo, Chase! Ma c'è una cosa con cui la Po-Patrol non ha ancora fatto i conti! Le batterie ricaricabili! Forza, Megan Dinger! Non si vede neanche una stella con questa luce! Quale sarà la causa di questo strano sole? Oh-oh! Se quella luce non viene spenta, perderemo l'allineamento dei pianeti! Meglio chiamare la Po-Patrol! Allora, Skye, usa il tuo gancio per allontanare la sagoma del faro! Ricevuto! Gancio! Vieni con me, Megan Dinger! Guardate, l'allineamento planetario procede proprio come previsto! Wow! È uno spettacolo sensazionale! Po-Patrol, grazie! Ce la siamo vista brutta! O meglio, non vista! Non c'è di che! Ogni volta che le luci diventano troppo luminose, noi siamo a disposizione! Sentite come fischia il vento! Sono felice di dormire dentro stanotte! Salve, signor Al! Ryder, ho un problema con un porcellino! I duoni hanno spaventato Corny ed è scappato! L'aiuteremo a trovarlo! Corny! 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 Eccolo là, Ryder! Vedo Corny nel canyon! Andiamo! Ecco dov'era! Rimarrà nei paraggi se vi serve aiuto! Chase, dobbiamo calarci! Ventose! Va tutto bene, Corny! Sarai in salvo in un batter di coda arricciata! Bene! Ora andiamo a casa! Oh! Corny ha troppa paura per venire! Sky! Cala l'imbracatura! Presa! Tranquillo, Corny! Ti aiuteremo a tornare dal signor Al! Tiralo su, Sky! Si parte, maialino! Ryder! Quei fulmini sono proprio sopra Adventure Bay! Sky! Non voglio che voli vicino al temporale! Gira intorno alle montagne sopra la baia! Allora, Corny! Faremo un giro un po' più lungo, ma ti riporterò a casa! Saremo quasi arrivati, Corny! Se solo vedessi la fattoria! Fantastico! Sulla testa! Quelle sono mucche? Già! Ti indicano la via! Oh! Ecco finalmente il mio Corny! Oh! È bello riaverti qui! Grazie per avermi riportato, Corny! Grazie a tutti voi! Nessun problema, signor Al! In ogni occasione noi siamo... a disposizione! Super Cuccioli! Siamo pronti alla superazione, signore! Grazie per essere arrivati subito, Cuccioli! A quanto pare c'è un nuovo cattivo in città! Non sappiamo di chi si tratti, ma sappiamo per certo che ha dei superpoteri! Wow! Chiunque sia deve essere superveloce! E superforte! Ed è proprio per questo che avrò bisogno di... Super Rubble! Dovrai usare la tua superforza per raddrizzare quelle rotaie! E Super Rocky! Userai i tuoi superattrezzi per rimettere insieme le rotaie il più in fretta che puoi! Bene! Al lavoro, Super Cuccioli! Queste rotaie sono state ridotte proprio male! Niente a cui io non posso rimediare! Hailey Daily sulla scena e sui vostri schermi! In diretta per voi dalla ferrovia di Adventure Bay! Oh oh! Il treno è più vicino di quanto pensassi! Rocky, devi piazzare quelle rotaie più in fretta che puoi! Rubble, noi avvisiamo il macchinista! Ricevuto! Fermate il treno! Le rotaie sono rotte! Oh no! Non riuscirò a fermarmi in tempo! Me ne occupo io! Le rotaie sono a posto! Puoi lasciare, Rubble! Grazie, Super Cuccioli! L'avete visto in diretta, gente! I Super Cuccioli hanno salvato il treno! Oh, patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Sta succedendo qualcosa ai giochi di Adventure Bay? Le medaglie sono scomparse! Sembrerebbe proprio un bel mistero! Ci sarà bisogno di un'indagine molto seria! Ci occorre una squadra scelta di Cuccioli Poliziotti guidati dal nostro esperto Chase! Ricevuto! Ricevuto! Al lavoro, Pou Patrol! Ryder! Devi trovare quelle medaglie! Rocky, tu controlla il terreno in cerca di tracce! Ricevuto! Nessuna traccia qui! Tu hai trovato qualcosa, Marshall? Solo dei petali sotto l'espositore delle medaglie! Chiunque abbia preso le medaglie non ha mai toccato il terreno! Guarda là dove c'era la medaglia d'oro! Velo di gatto! Ma non ci sono tracce feline sulla sabbia? Perché devono aver usato qualcosa per sfrecciare in aria, facendo cadere tutti i petali dei fiori! Ma come facciamo a catturare questi banditi volanti? Io ho un piano! Io voglio tutte le medaglie! Fermati! In nome della legge! Restituisca quelle medaglie! No! Sono tutte mie! 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 Dobbiamo salvare il sindaco Handinger! Skye, tieni d'occhio il sindaco! Sì, ricevuto! Sembra che sia diretto al canyon dei cactus! Rete! Perfetto! Ora ridatemi le mie medaglie! Spiacente, sindaco! Le medaglie tornano al loro posto! Un grazie di cuore a Chase e alla Poopatrol! Non c'è di che! Ogni volta che una medaglia scompare siamo a disposizione! Poopatrol, siamo pronti all'azione, signore! Qualcosa è andato storto alla gita nella palude! Una creatura ha spaventato i guaduoi facendoli scappare! Una creatura, hai detto? Proprio così! Il sindaco è bloccato nelle sabbie mobili e i turbot non rispondono al telefono! Ma Ryder, c'è la bassa marea a quest'ora del giorno e l'acqua sarà troppo bassa per il Sea Patroller! Hai ragione, Zuma! È per questo che si tratta di... Un Ultimate Rescue Palustre! È assolutamente ora di tuffarci dentro! Perfetto! Al lavoro, Poopatrol! Gli alberi interferiscono con il mio GPS! Non riesco a trovare la Flander né Goodway! Chase, usa il drone della palude per cercare indizi! Wow! Drone della palude! Impronte! Scommetto che quelle piccole sono di Julia e Julius! Quelle più grandi devono essere del sindaco! Andiamo a controllare! Seguiamo quel drone! Eccoli là! Sindaco Goodway, Julia, Julius! Sì! Evviva la Pompatrol! Sapevo che sarebbero arrivati! Rubble, usa la tavola per recuperare il sindaco Goodway! Rubble, come un super raggio! Tavola! Bene, sindaco Goodway! Salga sulla tavola facendo attenzione! Tavola, rientra! Oh, grazie, Rubble! Come dicono sempre i miei nipotini, che forza! Cavaliari del soccorso, siamo pronti all'azione! Serrider, signore! Chloe e Sparks hanno distrutto il ponte e ora la carrozza reale non può tornare al castello! Quindi per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semaforo verde, signori! E Rubble! Serrubble come un rozzo! Avrò bisogno anche degli altri cuccioli! Io sono pronto! Andiamo! Ah, bene! Al lavoro, cavalieri del soccorso! Ci siamo! Cominciamo col riparare il ponte! Rubble come un rozzo! E tu, Rocky! Tira fuori i pezzi del ponte caduti in acqua! In arrivo! L'osso di Excalibur sarà mio! Non puoi proteggerlo da solo, Chase! Pinze! Ha funzionato! Ha funzionato! Chase, state tutti bene? Stiamo bene, Ryder! Principessa, Chloe all'osso di Excalibur! È lui il cavaliere reale, a meno che io non lo fermi! D'accordo, Sir Chase! Bene, Pinze! Ora posate lentamente l'osso nel secchio e... No! Ryder! L'osso era un falso! Ehi, Sparks! Vuoi giocare con me? Wow! Dragobolas! Drago Rete! Meccato! Cavalieri del soccorso, grazie! Ci avete salvati! Ogni volta che un ponte crolla, noi siamo a disposizione! Oh, patrol! Siamo pronti all'azione, signore! Alex e il signor Porter si sono persi all'interno di un labirinto! Aiuto! Per fortuna, Mandy ci ha consegnato una mappa disegnata da Alex! Tracker! Dovrai usare il tuo mezzo e il tuo super udito per trovarli! E Chase! Userai il tuo drone per setacciare la giungla più fitta! Bene! Al lavoro, Pou Patrol! L'elefante ha sentito qualcosa! Motori! Deve essere la Pou Patrol! Aiuto! Dobbiamo fare più rumore! Forse l'elefantino può aiutarci! Eskuchen, ascoltate! Che strano! Sento il verso di un elefantino e altre due voci che sembra vogliano imitare un elefante! Dobbiamo controllare! Sì! Ecco il labirinto! Credi che la Pou Patrol sentirà il nostro richiamo d'elefante? È la voce di Alex! Perfetto! Troviamoli! Nonno, quello è il drone di Chase! Siamo salvi! Siamo salvi! Riesco a vederli! Oh, Pou Patrol! Da questa parte! Tracker, puoi dare un passaggio ad Alex? Sì! Cavi! Rider, cuccioli! L'elefantino è ancora intrappolato! Rubble, porta il tuo veicolo al labirinto! Rubble come un raggio! Qualcuno ha chiamato i rinforzi? Benvenuto a Berkingburg, signor Stars! È un onore essere qui, qui! Mi farebbe molto piacere offrirti un tè questo pomeriggio, prima del concerto! Forte! Chissà perché Luke ci mette così tanto! Principessa, ho guardato il camerino e ho cercato in tutto il castello, ma non riesco a trovarlo! Luke Stars è scomparso! Meglio chiamare la Pou Patrol! Pou Patrol! Sono così felice di vedervi! Principessa, siamo arrivati il prima possibile! Rocky, tu ed io cercheremo all'interno del castello! Skye, tu pensa all'esterno! Muoviamoci! Ricevuto, Rider! Muodo! Temo che non verrà mai ritrovato! E le luci della ribalta saranno tutte mie! Non è dietro questo muro! Cerca ancora! Skye, qualche traccia di Luke? Vedo qualcosa! Sembra il suo cappello! È incastrato in una finestra della Torre Est! Bel lavoro, Skye! Il muro interno verso la Torre Est dovrebbe essere proprio qui! Rocky, controlla dietro questo muro! Wow! C'è un ascensore segreto! È Luke! È in una stanza quassù! Ottimo lavoro, Rocky! Rubble, Skye! Vediamoci fuori dal castello! Sto arrivando, Rider! Pinze da costruzione! Il mio cappello! Grazie, mi avete salvato! Ehi, amici! Vi avrei chiamato, ma Sweetie mi ha preso il telefono e mi ha chiuso qui! Ma per fortuna stai bene! Adesso ti portiamo al concerto! Signore e signori Luke Stars! Buonasera, Birkinburg! Scusate il ritardo, principessa! Birkinburg! Grazie di essere qui, cuccioli! Il sindaco Goodway e i gemelli non sono tornati da un'escursione! Skye! Dovrai usare il tuo elicottero per cercare i Goodway! Everest! Usa il gatto delle nevi per perlustrare la montagna, visto che la conosci bene! Ghiaccio, neve, io sono pronta! Oh, me l'ero scordato, cicaletta! Dovremmo chiamare subito aiuto! Fischiare tre volte significa aiuto! Sentito! Questa è una richiesta di aiuto! Magari sono i Goodway! Skye! Vedi qualcosa dall'alto? Li ho trovati! Ryder, sono proprio sotto di me! Eccola, Popatrol! Eccoci qui! Siamo salvi, Julius e Giulia! Siamo salvi, cicaletta! Ti salviamo noi, mio sindaco! Oh no! Ryder, i Goodway stanno scivolando sul rusciallo ghiacciato e vanno verso una cascata! Stiamo arrivando! Non possiamo permettere che arrivino alla cascata! Everest, aggancia il rampino a quest'albero, poi con lo snowboard partalo dall'altra parte! Subito, Ryder! Snowboard! Rampino! Tenetevi per mano, gente! Sì, è stato... Fantastico! Beh, almeno voi vi siete divertiti! Ora come faccio ad alzarmi con queste? Popatrol, siamo pronti all'azione, signore! I Turbot sono nei guai, cuccioli! Sono bloccati su un triccerato poi in fuga! È una cavalcata pericolosa! Per questa missione mi servirà... Sky! Uh! Prendiamo subito il volo! E Rex? Non posso dire di no! Bene! Al lavoro, Popatrol! Vai via, vessatore volante! Chase, ci serve un diversivo! Uh! Lancia palle! Sky, è la tua occasione! Qualcuno la ferri! Beh, prima tu! Wow! Grazie! Uno sistemato, uno da sistemare! Sì! Sì, tala! Wow, dinosauro salvaggio! Wow! Wow! Presto! Sono nella melma fino al petto! Robo Cucciolo, fa scendere le pinze del Dino Patroller nella buca! Rex, tu va a calmare il triceratopo! Senz'altro! Calmo, calmo! Ti tireremo fuori! Allaccia le cinture, campione! Tiralo su! Ottimo lavoro! Adesso pensiamo a François! Dino Artiglio! Merci, Rex! Robo Cucciolo, puoi tirarli su! Grazie per averci protetti dal pericolo preistorico, Poppatroll! Non c'è di che! Ogni volta che c'è un triceratopo in fuga, noi siamo a disposizione! Pa, 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 cio State andando bene, cuccioli Trasformerete questo prato vuoto In un luogo piacevole Magari in un parco giochi Fa arte, questo uccellino Si è già trasferito qui Signorina Marjorie, come va? Sono apparse dozzine di buche Nel mio giardino, Rider Non si può camminare senza finirci dentro Ed è esattamente ciò che è successo a me e a Maynard Stiamo arrivando, signorina Margie Ma che immenso piacere avervi qui Dov'è Maynard? È accanto a quell'albero Oh oh, l'albero cadrà intrappolando Maynard Rocky, tiriamolo fuori Ti serve una zampa o una pinza? Si aggrappi al mio overball Sto a una favola! Yahoo! Sky, cala l'imbracatura a Rubble Ricevuto, Ryder! Tutto bene, laggiù Rubble? Io sono a posto Mi preoccupa la casa della signorina Margie Si regge soltanto su una colonnina di terra Ma Ryder, io come faccio a vivere in una casa così barcollante? La sposteremo! Ehm, dove? Nel posto perfetto Il campo che stavamo ripulendo Oh, mi sembra una bella idea Procedi pure, Robo Cucciolo Robo Cucciolo, ci muoviamo! Piano, piano, con calma Portala giù, Robo Cucciolo Ce l'avete fatta, Cucciolo? Ce l'avete fatta? Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon Cucciolo, grazie a tutti! Grazie a tutti.